Ciao ragazzi, vi do il benvenuto a questa nuova rubrica che è Unity in pillole. Come dice la parola, sono piccole situazioni che risolveremo quotidianamente attraverso la plataforma Unity. Unity è una plataforma che viene utilizzata per fare giochi in Brasile e in molte altre parti del mondo, è molto utilizzata ed è una plataforma che permette di fare giochi di alto livello. La particolarità di questa forma è che utilizza un incrocio tra il C Sharp, il Java, la possibilità di utilizzare anche Java e una serie di opzioni all'interno della plataforma veramente straordinaria, dove possiamo davvero fare di tutto. Abbiamo degli schermi grafici, abbiamo di tutto, abbiamo un animatore, abbiamo tutto quello che possa servire per creare il nostro gioco. Risolveremo, come ho già detto, piccole situazioni ogni giorno per riuscire ad avere il massimo da questa fabolosa piattaforma. Vi do quindi il benvenuto e non perdiamoci in chiacchiere, partiamo subito con i nostri video. Ciao!